Buongiorno Pulce! Tantissimi auguri di buon compleanno! Dato che io, come altre persone, oggi purtroppo non potremmo essere lì con te per festeggiare questo giorno speciale, ho deciso di raccogliere i video auguri delle varie persone che ti vogliono bene e di unirli tutti in un video che stai per vedere. Ti voglio tanto tanto bene, ti amo tantissimo e spero che questo giorno sia bellissimo. Non vedo l'ora di vederti. Usaini Bolsha. C'è anche la quale! Ti amo tanto, buona visione! Mattia, che bello, ho fatto un'è per il tempo di raccogliereci, perché mi puoi inserire in prima volta in cui ci ho scoperto. Mi bello, mi bello, mi bello, che ti ho scoperto in tutto il tutto il mondo. Mi bello, mi bello, che mi chiedi a scrivere in un libro che sei nel trebato, che sei che sei chiamato, non più, ma più, ma più, che sei in un'attività che si in un'attività. E sempre bemmo così, e bemmo un legenda come ti sei conoscita. Spero di giura! Spero di giura! Spero di giura! Ciao! Ciao! Spero di giusti il tuo ragazzo! Ero! 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 che abbiamo visto già 100 anni. Inizialmente, bello preznoi in se abbastanza piaci, ma non bruciati e vediamo quando prendiamo quando prendiamo. Ciao! Matija, prima di te mi chiede, chi è stato da stai, se ti chiedi a parlare di nuovo, ma che ti chiedi molto felice, molto salute, e che stai più forti ma è più forti ci sono sempre più e meglio per tuo giorno e ti sono sempre più felice e bellezza con te lo Daniele e spero che vedi a breve ciao 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 Mattia sempre più più fatti per tuo giorno spero che ti resti tutti i nostri aspetti e poi resta più più felice come ti sei più fatti come ti sei del giorno buona ciao 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 Mattia ciao Ciao, cimero in Milano, vissi najbolsze. Vissi, voglio di un' successo. L'ho bezzato. Vissi, cari Mattia, voglio che per il vostro giorno vissi najbolsze, che tu sia così bene così bene, come tu stessi. e mi più piacerebbe che avete tutti i nostri amici, perché anche noi abbiamo tutti i nostri amici. Se volessi così prima, sarebbe un saluto. Tanti auguri, Matija! Da me e da nasa! Auguri! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vi ricordi, quando siamo seduti prima di due anni, siamo in Triglavske, in copro, in cui si spavamo nella mia treba, in cui è stato il mio figlio, però per me sei ancora, il mio piccolo, più di più di più! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te, Matija! Tanti auguri a te! Ciao! Baci da Monaco! Ciao! Questa bellissima iniziativa per il video! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!